Buongiorno a tutti! Grazie a voi, mi ame! Mi ame veramente con tutto il mio cuore, mi amore, mi amore, infatti il mio cuore mi ame così, mi ame così e mi ame anche un po' così. Che è successo? La buona pagina là fuori! Il gran teatro! E l'ho trovata posto! C'è un gran parcheggio! Io ho tutta posta! Tom, mi sto cadendo i piedi! Gigi, mi chiamo che mi conosciamo! Adesso ha 47 anni! Allora... Salute il pubblico! Ciao! Allora, il ragazzo deve capire che non è Nino D'Arco, no, no, io lo direi molto diretto e definitivo, ma tu non sei Nino D'Arco, ma è bello ritornare quando Nino aveva i capelli così, col caschetto, quando aveva quella forza scuola... Forza campionare! T'accordo, vai, 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 vai... Dizzi che devo andare! Gigi, 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 gigi... Che... Azzabruscia! Ehi! Anna Marina! E' un uomo cosa ha fatto, donna babbuta sempre piaciuta, si sa! E' un uomo! Anna Maria perché mi hai abbastato? Anna Maria io mi ricordo, ricordo, nel russo ricordo, mi ricordo tutti i miei momenti che abbiamo passato insieme, mi ricordo una volta, mi ricordo una volta, in un film, stavamo io e te, stavamo solo in Anna Maria e stavamo su una barchetella e pensavamo, a un certo punto la barchetella si può... come si può? Anna Maria ci faccia uomini, a un certo punto lei mi ha detto che aveva il cuore in uova, e tu l'acqua in donna se sarà a fumare la barche, lasciamo i miei, lasciamo i miei a me, a tutti i miei, così, così, ah, che è successo? S'è stata buttata qua su, e lei mi poteva... E lo diremo al proprietario del teatro. Eh, io ho un grande altro, lo vedete? Ma che signora? Si chiama Greta? Che non si vede perché la Tenzo struttura questo. Eh beh, ma Tenzo che ha arrivato un momento di piccola. Che prezzo, che ne dino. Allora, Vivo, Vivo, Vivo. Basta, basta, non c'è. Devi ammettere che non sei un altro. Ma io sono qui per ricordare tutti i bei momenti dei miei film. Ah, film! Il momento più bello dei miei film è quando ho fatto il messiero che mi hanno imparato mio patro e mio zio quando facevano i macellini. Macellai. Macellini! Macellai! Macellai! Macellanti! Macellai! Macellai o me! Ma che c'è qua con te? Macellaio si dice. Anzi, io ti voglio un po'. Dai, ti voglio un po'. Io la parlo di questo. Allora, voi mi dovete mettere alla propola e io vi faccio vedere che sono il migliore del macellerizzo del mondo. Macellario. La propola. Vai. La propola. Insomma. Allora, vediamo se almeno c'è un bravo macellario. Allora, vediamo se conosci la tua clientela. Ah! Se entra uno manziano, che carne gli fai? Faccio carne di manzo. Se entra una persona che ha dieta, faccio carne bianca. Se entra una bella ragazza, faccio carne di macellare. Ascettici! Ma che fa? Ma che si fa? Ma che si fa? A tutti i mandi. Così! Così! Ah! Che è successo? Però non buzzo, il saluto. No, basta! Non ferma! Ogni... Ogni... Che è successo? Ma cosa è spiccio? Ma che è vero? Ma cosa è fatta? Anna Marie perché fai teatro Anna Marie? Anna Marie io mi ricordo tutte quelle cose. Costa? Ma cosa? Mi ricordo... Tutti quei momenti quando ti veniva più chiaro a casa tua, non con la mia macchina, non con il mio motorino, ma con il mio mezzo! Mio mezzo! Cioè, ah, il motorino! Lo scooter! Dite anche un mezzo, non lo so poi come... Sì, però il mezzo non accelurano più quelle parti. E un altro mezzo? Un altro mezzo per carica. A un certo punto stavamo su questo motorino, correvamo delle vie di Napoli, correvamo all'impazzaia. Possiamo parlare sopra il motorino, ma io non faccio niente. Perché? Perché tengo una schetta! Basta! Cazzo a tutti quanti, così, così, ah! Cazzo, 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 cazzo. Cazzo, 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 cazzo. E ma sì, ma scusa, ma perché non ti ispiri altri cantanti? Che ne so, Gazzetta. Ho capito? Gazzetta. E chi Gazzetta? Max Gazzetta. Quello che canta, cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo. No, questo è un po', conoscendo, 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 conoscendo. No! Quello che canta, me mi sa che ti farò vedere. Ok, lascia sempre se non vedo un po'. No, no! Che ne so, vediamo. Ero e stravazzo. Oh, Ero! Quello che canta, ma tu chi sei? Chissà chi cazzo, che non lo so dire Un angelo di Stefano Sohé. Lo conosco! Lo qui siamo! Ma tu chi sei con la Manica? Che sei venuto a casa mia? Pap, pap, pap! Ti hai detto, cari Anna Maria A ora vedo un te, che mi tu fa per me Quasi accarezzo, essendo un fatto strano Ma allora si chiedano Preghia, basta! Ma siamo vicini! Basta! Lasciamoli via! No, no, no. Il piano che la verrà un'attesa d'altra parte! Allora, Fred, devi capire la differenza. Fagli ascoltare Nino D'Angelo nel 2014. Ascolta! 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 Ferma, metti un pezzo d'anni 80, non capisci? Ma no, dai, un pezzo d'anni 80, dai! Ma così non capisci però, dai! Ascolta! 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 Ehi, questi che sono? Questa è la mia musica! Fatti le cazzioni le mani! Ascolta! Ascolta! Alla bene! Ascolta! Il nostro affetto vi dà un bel appoggio! Non c'è di un pubblico! Si dona la mensola! Ciao! Vivo! A parlare di musica vera